Coca-Cola si conferma la prima realtà nel settore delle bibite in Abruzzo a livello di risorse complessive distribuite a famiglie, imprese e statue per l'impatto occupazionale complessivo che genera. Secondo una ricerca svolta da S.D.A. Bocconi School of Management relativa all'impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia, con un'attenzione specifica all'Abruzzo, regione che ospita lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Oricola. Nelle 2022 ammontano a 46 milioni di euro le risorse generate e distribuite agli attori principali dell'economia regionale, sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi. In Abruzzo Coca-Cola si conferma anche il primo datore di lavoro nell'industria delle bibite, creando direttamente 1.384 posti di lavoro, circa lo 0,3% degli occupati totale all'interno della regione, con un totale di 3.150 persone che beneficiano parzialmente o totalmente dai redditi di lavoro generati da Coca-Cola. I dati di S.D.A. Bocconi mettono inoltre in evidenza il forte legame che unisce Coca-Cola al contesto regionale abruzzese, in particolare attraverso la rete fornitori, rappresentati per il 26% da medie imprese, per il 47% da piccole imprese e per il 26% da micro imprese. Le evidenze che emergono dalla ricerca ribadiscono l'importanza dello stabilimento di Oricola, tra i primi siti produttivi in Italia ad utilizzare PET 100% riciclabile e tra i primi ad utilizzare PET 100% riciclato. Una fabbrica all'avanguardia che rappresenta un polo di eccellenza tecnologica e di sostenibilità, capace di generare importanti ricadute positive per l'intera regione, su cui stiamo, investendo per implementare la prima linea di produzione di lattine, dichiara Gian Giacomo Pierini, Corporate Affairs e Sustainability, director di Coca-Cola HBC Italia. Siamo orgogliosi di continuare a rappresentare un valore e una risorsa per l'economia del territorio e per l'intera comunità locale. Lo stabilimento di Oricola dispone poi di impianti tecnologicamente avanzati, come i compressori ad alta efficienza per il soffiaggio delle bottiglie, che garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2 e un impianto di trigenerazione in grado di produrre allo stesso tempo energie elettriche ed energia termica calda e fredda. Nel 2022 il lastito abruzzese ha beneficiato di un importante investimento di oltre 20 milioni di euro finalizzato all'implementazione di una nuova linea di produzione di lattine e permettere inoltre la costruzione di una nuova sala per la preparazione dei concentrati e di un nuovo magazzino di oltre 3.000 metri quadri dedicato allo stoccaggio delle materie prime.